Amici avventurieri appassionati di D&D quinta edizione, oggi in questo video vi presento l'Echo Knight, ovvero sia il Cavaliere dell'Echo. Ma dove lo trovate il Cavaliere dell'Echo? Allora, questa è una sottoclasse per il guerriero che si trova nel manuale, solo in inglese, Explorers Guided to Wildemount, ovvero sia la guida all'esploratore di Wildemount, pubblicata ancora nel marzo del 2020. Il suo nome è dato dalla caratteristica di proiettare una propria immagine magica a distanza, quindi non ha nulla a che fare con la voce. Questa manifestazione visiva possiede numerose proprietà e diciamo che complica anche un po' la vita al Dungeon Master e anche agli stessi giocatori, poiché non è descritta proprio benissimo. Ma prima di procedere oltre, chi sono io? Beh, io sono Lorenzo, il vostro Dungeon Master Vintage! Al terzo livello il Cavaliere dell'Echo ottiene uno dei privilegi di questa sottoclasse più potenti in assoluto. Questo privilegio si chiama Manifestazione dell'Echo. Allora, vediamo che cosa fa Manifestazione dell'Echo e perché è tanto potente. Il Cavaliere dell'Echo può manifestare con un'azione bonus un'immagine di se stesso entro 4,5 metri in un posto non occupato e che egli sia in grado di vedere. Con un'altra azione bonus, invece, può far scomparire la sua manifestazione, il suo eco. Ed ora attenzione, non viene indicato un numero di cariche giornaliere, quindi manifestare l'Echo, ragazzi, è un potere a volontà. Lo potete pure spostare di 9 metri senza consumare azioni, ma se alla fine del vostro turno è oltre i 9 metri scompare. Ciò significa che voi, con il movimento, potete anche mandarlo più lontano dei 9 metri da voi, ma poi deve rientrare all'interno dei 9 metri. Ma cosa significa e comporta far apparire la propria Eco? Allora, significa che questa manifestazione può apparire, ad esempio, al di là di una grata, in quanto basta poter vedere il luogo, ma non c'è nulla che le impedisca di apparire, ad esempio, al di là di un muro di forza se l'aria è visibile. Infatti, attenzione a questo particolare. La manifestazione dell'Echo non è un effetto magico che passa attraverso il muro di forza, né un incantesimo, ma è una capacità magica che crea un'immagine che appare dall'altra parte. Quindi non c'è un effetto che appare attraverso. È esattamente come il teletrasporto. Voi con il teletrasporto non passate attraverso un muro di forza, voi apparite da un'altra parte. Se avete intenzione di giocare con questa classe, discutetene subito su questa particolarità con il vostro Dungeon Master, poiché ciò influirà non poco sulle vostre possibilità. So che su questo punto non tutti sono d'accordo, anche se c'è un tweet di Jeremy Crawford, ad esempio, su come passo velato possa superare un muro di forza o anche il teletrasporto stesso. Questa manifestazione non è proprio passo velato, però in ogni caso funziona in maniera molto simile e analoga. Tuttavia è il mio parere che una volta che l'eco si è manifestata non sarà in grado di attraversare il muro di forza, né le sbarre di una cella. Quindi lo posso manifestare dall'altra parte, se posso vedere quel luogo, ma una volta che si è manifestato non può attraversare le sbarre di una cella nel muro di forza. Infatti l'eco, quindi questa manifestazione, questa immagine manifestata, ha una sua classe armatura ed un solo punto ferita ed inoltre occupa uno spazio. Quindi non è propriamente un'immagine, ma è qualcosa di diverso e poi vedremo che cosa potrebbe essere. Ma eccoci alla parte più importante. Questa immagine non è una creatura, ma un oggetto. Attenzione quindi, l'eco non è una creatura, certamente non può esserla in quanto è specificato nel potere che è un'immagine, ma viene considerato un oggetto. Allora ciò non viene specificato chiaramente nel testo del potere. Infatti nel testo del potere si afferma solo che è un'immagine e si deve arrivare per deduzione che sia un oggetto. Ma per fortuna il buon Jeremia l'ha specificato in un saggio device. Infatti anche il testo della guida del Dungeon Master, pagina 246, che parla appunto di oggetti, non ci aiuta a capire se questa immagine possa essere un oggetto. Si potrebbe dire che, non essendo una creatura e possedendo punti ferita e classe armatura e occupando una zona, è un'immagine solida, paragonabile ad un oggetto. Allora, la community dei giocatori di D&D su D&D Beyond mi sembra che abbiano preso per assodato questo fatto, anche in virtù del tweet di Jeremia. Quindi prendiamolo assodato anche per noi. L'eco di sicuro non è una creatura e viene considerata un oggetto. Questa distinzione è fondamentale per capire alcune cose sulle sue funzioni. Vediamole. Essendo un oggetto non può essere utile, per esempio, per fiancheggiare. Ed un ladro non può approfittare della sua vicinanza ad un nemico per sferrare un furtivo, perché è un oggetto, non è una creatura. Gli incantesimi, che come bersaglio indicano una creatura, non possono indicare l'eco. Ad esempio, se un warlock usa deflagrazione occulta, non può puntarla addosso a questa immagine eco, perché è un oggetto. Gli oggetti solitamente non effettuano di tiri salvezza. Tuttavia, nel testo del potere si specifica che, se viene richiesto, l'eco usi i tiri salvezza del personaggio. Per capirci, subirà tutti i danni di una palla di fuoco senza effettuare il tiro salvezza su destrezza, ed avendo comunque un punto ferita, sparirà. L'eco, pur essendo un'immagine, occupa uno spazio come specificato nel testo del potere, e possiede, attenzione, una classe armatura pari a 14, più il bonus di competenza del personaggio, ed anche un punto ferita. Come descritto a pagina 246, a pagina 247 della guida del Dungeon Master, gli oggetti sono immuni ai danni psichici e al valeno. Ed inoltre, come specificato nel testo, è anche immune alle condizioni. Quindi, ad esempio, la vostra immagine eco non può essere buttata a terra prona. Inoltre, attenzione, che l'attacco di spinta, ad esempio, siccome si può effettuare solo contro una creatura, non può essere fatto contro la vostra immagine eco. Qui, eventualmente, interverrà il Dungeon Master sulle singole situazioni. L'eco, quando viene spostato, non provoca un attacco di opportunità. Infatti, l'attacco di opportunità richiede che vi sia una creatura che esce dall'area minacciata del personaggio. Infatti, l'eco non è nemmeno una creatura di tipo costrutto, è proprio un'immagine, è proprio un oggetto. L'eco non può essere afferrato, poiché afferrare richiede che vi sia una creatura. Di conseguenza, anche contro di esso non si può lottare. Ottava considerazione. L'eco non può guadagnare punti ferita temporanei, perché i punti ferita temporanei non si possono assegnare agli oggetti. E per finire, l'eco può essere manipolato da incantesimi che interagiscono con gli oggetti, ad esempio come i telecinesi. Immagine eco e invisibilità. Dato che far apparire la vostra eco non è un attacco, né il lancio di un incantesimo, né richiede concentrazione. Se siete invisibili con l'incantesimo invisibilità di secondo livello, non tornate visibili. Tuttavia, la domanda sorge spontanea. L'eco di un cavaliere dell'eco invisibile è invisibile? Quindi questa immagine alla fine risulterà invisibile? Allora, non ho trovato risposte ufficiali sull'argomento. Tuttavia, il testo del potere specifica ben due cose. La prima, il potere specifica che crea un'immagine magica, traslucida e grigia del cavaliere. Quindi, avendo specificato sia la consistenza che il colore, credo che escluda altre forme. Tuttavia, saltiamo al secondo punto che è più importante. Questa immagine eco è immune a tutte le condizioni, quindi anche alla condizione di invisibilità. Quindi anche se voi siete invisibili e la vostra immagine eco non può essere invisibile, poiché è immune alle condizioni. Quindi l'eco di un cavaliere invisibile è un'immagine visibile, magica, traslucida e grigia del cavaliere. Allora, avete capito come mai primo specificato che questa sottoclasse non è per giocatori principianti, perché il giocatore deve padroneggiare, per esempio, che cos'è un oggetto, che cosa si può fare con esso, con cosa non si può fare con esso e naturalmente anche il dungeon master. Quindi, se non vi è venuto mal di testa finora, procediamo finalmente con i poteri di questa manifestazione dell'eco. Al terzo livello, i poteri del privilegio o manifestazione dell'eco sono tre. Questi poteri possono essere utili sia per combattere in mischia che a distanza. Purtroppo, per fortuna, dovrete fare attenzione alla gestione delle azioni bonus che potrebbero non bastarvi. Esaminiamo il primo potere, il potere del teletrasporto. Questo in assoluto, ragazzi, il potere più potente dei tre e richiede l'azione bonus. Con esso vi potete scambiare di posto con la vostra eco. Non si specifica che la dovete vedere, ma soprattutto non specifica un numero massimo di usi giornalieri. Di fatto è una capacità magica a volontà, limitata solamente dal raggio dell'eco, dall'uso dell'azione bonus e anche dal consumo di 4,5 metri di movimento quando la utilizzate. Quindi, passo velato, spostati. Considerato che tutto il mondo di D&D non è progettato per contrastare un semplice passo velato, voi con la vostra eco potrete infiltrarvi ovunque. Ad esempio, nel primo turno, azione bonus per manifestare l'eco ad esempio al di là di una grata. Secondo turno, azione bonus per scambiarvi di posto con l'eco. Terzo turno, mandate via l'eco e quindi a questo punto andate fino alla prossima grata e ricominciate. Primo turno, secondo turno, terzo turno e avanti così. Non essendo, attenzione, il lancio di un incantesimo, questo effetto di teletrasporto non fa terminare nemmeno l'invisibilità. Quindi è utilissimo anche per fuggire di prigione, superare pertugi, confondere nemici. Invece, attenzione, se siete afferrati non potete teletrasportarvi al posto della vostra eco, poiché la vostra velocità è zero. E se ricordate, vi ho detto prima che questa azione di teletrasporto consuma 4,5 metri del vostro movimento. Quindi, se la velocità, il movimento è a zero, non potete effettuare questo scambio di posto con la vostra eco. Secondo potere formidabile, si chiama dislocazione dell'attacco. È naturalmente un potere che serve per attaccare. Allora, quando usate l'azione di attacco, ogni vostro attacco può partire da voi o dalla vostra eco a scelta. Ad esempio, potreste attaccare tramite la vostra eco, mentre voi siete rifugiati dietro una feritoia o, se ricordate l'esempio che ho fatto precedentemente, dietro un muro di forza. Fate attenzione però ai particolari. Si parla di azione di attacco e non di lancio di incantesimo, anche se con esso effettuate un attacco. Quindi, per chiarirci, se voi attaccate con lama roboante tramite la vostra eco, non è possibile. Lo stesso vale per stretta affolgorante, un altro incantesimo che compie un attacco, ma è l'azione di lancio incantesimo, anche se effettuate un attacco. Spingere o buttare a terra prono dovrebbe essere possibile, in quanto sono degli attacchi speciali. Afferrare, invece, è discutibile. Io direi di no, che non si può afferrare tramite la vostra eco, ma per questo consultatevi con il vostro dungeon master. Ho visto numerose discussioni online. Mi pare che la maggior parte propendessero per no, anche se in teoria non è propriamente escluso che si possa fare. Terzo potere della manifestazione dell'eco. Potete sferrare un attacco di opportunità con la vostra eco. Ebbene sì. Quindi, con la vostra eco, potete, naturalmente, utilizzando la vostra reazione, sferrare gli attacchi di opportunità come se foste voi a sferrarli, quindi con tutti i vostri benefici, privilegi e talenti. Se usata con strategia, potreste controllare il campo di battaglia con il talento sentinella, ad esempio, in modo molto efficiente. Ma attenzione che, ad esempio, con il talento sentinella funziona soltanto il primo beneficio. Poi, casomai, ne parliamo. Inoltre, un ladro cavaliere dell'eco potrebbe sfruttare questo potere per avere delle chance in più per utilizzare gli attacchi di opportunità. E sapete che un ladro che sfrutta gli attacchi di opportunità può effettuare un furtivo in più. Concludo questi tre formidabili poteri con questa sottolineatura. Ciò che l'eco non può fare. Allora, l'eco in battaglia può fare solo ciò che è indicato in questi tre poteri. Non si può quindi interagire con oggetti. Non può l'eco mettersi sulla difensiva, anche se voi lo siete. L'eco non può schivare. Non è una creatura. Non possiede azioni, reazioni, azioni bonus. Non può aiutare un vostro aleato. Non può aprire porte. Non può nascondersi. L'eco, appunto, non possiede azioni, movimento, azioni bonus. Può fare solo ciò che è scritto in questi tre poteri. Ricordate. Ma comunque, ragazzi, mi sembra che sia abbastanza e sufficiente per rendervi particolarmente forti e versatili in molte situazioni. Ma i privilegi di terzo livello non sono ancora terminati. Infatti, il cavaliere dell'eco al terzo livello guadagna anche Unleashed Incarnation, che potrebbe essere tradotto come rilascia, scatena l'incarnazione. Questo privilegio vi permette di compiere un attacco aggiuntivo, ma udite, udite, come parte dell'azione di attacco, senza consumare l'azione bonus. Però, attenzione, questo attacco aggiuntivo lo sferrerà la vostra manifestazione dell'eco. Quindi potete attaccare una volta in più del normale, senza consumare l'azione bonus, che potreste usare per fare qualcos'altro, ad esempio, combattere con due armi. Per fortuna che Unleashed Incarnation è un potere a cariche, ebbene sì. Beh, insomma, manifestazione dell'eco già era a volontà, non potevano fare anche questo qua a volontà. Allora, gli usi dipendono dal bonus di costituzione. Se combattete spesso, lo esaurirete subito. Se invece le vostre avventure sono un po' più tranquille, vi durerà a sufficienza. Per farvi capire le potenzialità di questo privilegio, provate un po' a immaginare un cavaliere dell'eco, umano, con il talento maestro delle armi su asta e con lo stile di combattimento combattere con le armi possenti. Questo personaggio, al terzo livello, potrebbe effettuare un attacco principale con la sua alabarda, poi l'attacco con l'azione bonus, dovuta naturalmente al talento maestro delle armi su asta, e poi anche l'attacco con Unleashed Incarnation, e siamo arrivati a tre. Dopodiché, con azione impetuosa, potrebbe fare un altro attacco con la alabarda, e quindi arriviamo a quattro, e poi con Unleashed Incarnation, usando un'altra carica, potrebbe arrivare naturalmente a cinque, quindi consumerebbe subito al primo turno, diciamo, due cariche. Però potrebbe fare comunque cinque attacchi al terzo livello in un solo turno, ragazzi. Al settimo livello, il cavaliere dell'eco guadagna il potere che si chiama Echo Avatar. Ora questo è un altro bel potere, anche se di tipo esplorativo. Potete trasferire la vostra coscienza nell'eco per dieci minuti, e muovervi fino ad una distanza considerevole, mille feet. Per raggiungere questa distanza, ad esempio, muovendovi a 30 feet a turno, impiegherete circa 33 turni, quindi tre minuti e venti secondi. I restanti, eventualmente, li avete per esplorare e andare in giro. Tuttavia, attenzione che non sarete invisibili, ma avrete sempre quella forma grigia, traslucida, poco rassicurante per chi vi incontra. Allora, purtroppo il potere non è scritto benissimo. Si intuisce sia solo un potere esplorativo, quindi tramite il vostro avatar non potrete attaccare. Ed inoltre, non si specifica se la vostra immagine, mentre va in giro, possiede velocità di volo, ma io ritengo di no, esattamente come la manifestazione dell'eco. Se non possedete velocità di volo, la vostra manifestazione non può volare. Al decimo livello ricevete un altro interessante potere, che si chiama Martire Ombra. E come funziona? Allora, è un sistema per proteggere un vostro alleato da un attacco nemico. Allora, come funziona? Utilizzate la vostra reazione e proiettate la vostra eco davanti ad un attacco nemico, quindi in una casella adiacente al vostro alleato che sta per subire l'attacco. La vostra eco subisce l'attacco, pertanto il nemico consuma il suo attacco contro la vostra eco invece che colpire il vostro alleato. Allora, è un potere, attenzione, che potete usare una sola volta per riposo breve o lungo. Purtroppo non potete usarlo prima di sapere se quell'attacco avrebbe colpito o meno il vostro alleato. E al quindicesimo livello invece ottenete il privilegio che si chiama recuperare il potenziale. Allora, ogni volta che la vostra eco viene distrutta, voi guadagnate punti ferita temporanei se già non ne avete. I punti ferita che guadagnate sono pari a due dadi da sei più il vostro bonus di costituzione. Allora, peccato che sia un potere a cariche giornaliere, ma comunque va bene lo stesso. Ultimo potere, al diciottesimo livello ottenete il privilegio che si chiama Legion of One, ovvero sia Legione dell'Uno. Che cosa fa questo potere? Manifestate due ecchi e se avete consumato tutti gli usi di Unleash Incarnation di terzo livello, quando utilizzate l'iniziativa, ne riottenete uno. Questa è una manifestazione potente, diciamo, ma non potentissima. Allora, mi piace molto l'idea e le possibili implicazioni che potrebbero scaturire da un giocatore creativo per il fatto, insomma, di avere due di queste manifestazioni dell'Eco. Però, comunque, bisogna arrivarci prima a questo livello per ragionare su come poterlo utilizzare efficacemente e controllare bene il campo di battaglia. Ed eccoci la conclusione. Allora, mi sembra di aver parlato un sacco. Vi risparmio per questa volta una serie di domande e di risposte sull'Eco Knight. Casomai, se foste interessati ad altri articoli di approfondimento sulle varie eventuali del Cavaliere dell'Eco, ci penserò un po' su. Dipende, insomma, un po' anche dalla visibilità del video. In quanto sapete che tengo famiglia e, naturalmente, questi video fatti con passione portano via anche un po' di tempo agli altri miei affari. Allora, ragazzi, se vi è piaciuto questo approfondimento sul Cavaliere dell'Eco, vi chiedo di fare un piccolo mi piace su questo video e, se non l'avete già fatto, naturalmente iscrivetevi a questo canale, così mi aiutate anche un po' a crescere magari anche tecnicamente. Naturalmente sono benvenuti i vostri commenti e eventuali osservazioni e, se naturalmente trovate degli errori su ciò che vi ho detto, scrivetelo sempre di sotto nei commenti. E con questo, ragazzi, è tutto. Vi saluto e buon D&D a tutti quanti. Ciao al prossimo video. Chissà, forse ancora D&D 2024. Ciao alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.